ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare del mondo di mapi ovvero di mariangela pistoia che mi ha mandato due pacchettini direttamente da palermo io felicissima già sento odore della mia terra infatti adesso vi farò vedere questi due pacchettini che mi ha inviato vi voglio parlare del mondo di mapi ovvero di mariangela perché lei si occupa esclusivamente di cucito quindi lei va a realizzare tantissimi prodotti a mano partendo comunque sia prodotti per bambini come appunto bavaglini ma anche copertine porta pannolini e così via insomma una miriade di cose adesso vi faccio vedere il particolare invece il cosa mi ha inviato a me perché si occupa anche di queste cose adesso li andremo ad aprire e vi devo dire che aprendo questi pacchettini si è sentito un odore incredibile e infatti le ho chiesto subito quale profumo abbia messo dentro questi pacchettini e in particolare ho usato vi voglio dire questa curiosità proprio perché lei nei suoi ordini va a spruzzare questo profumo in particolare si tratta del profumo caudale devine cioè proprio è un profumo strepitoso che è veramente è incredibile io infatti quando l'ho aperto ho detto oddio che profumo allora ragazzi adesso vi faccio vedere nel nel dettaglio cosa c'è all'interno questi due pacchettini allora qui troviamo tre scrunchies allora qua abbiamo questi qua di raso sul beige con la che mette la targhettina il ciondolino fatto con amore bellissimo poi abbiamo questi qua stile tartan in tessuto e infine abbiamo anche questi qua il raso bellissimo rosso sempre con il ciondolino e poi infine qui abbiamo il kit per la skin care ovvero ovvero la fascia per i capelli e qui abbiamo le tre e qui abbiamo anche i dischetti lavabili per quando andiamo a fare la skin care e quindi mettere appunto l'acqua micellare e poi la andiamo a lavare direttamente lavatrice e quindi non si vanno a rovinare quindi questo è il kit skin care e qui abbiamo i tre scrunchies veramente bellissimi quindi vi consiglio di andare a visitare la pagina di mapi che la trovate sia su instagram che su facebook maria angela pistola che si trova a palermo effettua ordine in tutta italia e fa tantissime cose fatte a mano davvero bellissime grazie a maria angela grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti